Signori, un caro benvenuto e soprattutto ben ritrovati in questo nuovissimo contenuto targato Alonso Grey Fox Come state ragazzi? Tutto bene? Spero bene Siamo su Esports Rivals, signore e signori E oggi Follower Day Siamo in serata, sono le 21.38 in questo preciso istante Ringrazio anche Max per la live fatta poc'anzi Saluto anche il principe Mr. Giuseps Ed un caro benvenuto anche al buon Yuri Signori, ragazzi, molto chill, molto tranquilla la live Oggi sono proprio in puro relax Non c'è voglia di fare cose troppo, come dire, intense da quel punto di vista Quindi che cosa faremo? Mentre che piano piano arrivano le persone Noi ci facciamo un po' Ehm Ma Yuri va a vendere il cocco per cortesia, su per cortesia, su A vendere il cocco, velocemente, la strapera, vedete che il cocco è di là, di là, di là, di là Ovunque tu vai, vedrai che troverai la via Io no, io no Tu vai, corri, vai, vai, corri a vendere il cocco Velocissimo Velocissimo No, ci sta sempre bene questa tutta Oh, la tutta rosso e il nero stanno bene Eh, sì, sì, è onere per i deboli, diciamo così Ok, signori Ci facciamo, banalmente, un eventino Aspettando, appunto, come dicevo prima Che, piano piano Arriviate tutti E poi, chi vuole giocare E assolutamente Ah, vado, vado a velo liscio proprio Così, vado Assolutamente il benvenuto A me l'Inter, invece, è sempre stata Allegramente C'è, l'Inter di Molinio mi è piaciuta molto Quest'ultima Inter mi piace molto Ma in generale, a me l'Inter è sempre stata una squadra che non mi piaceva Ma più che l'Inter in sé, per sé I tifosi dell'Inter con cui avevo a che fare Perché era un pianto continuo Cioè, era sempre colpa di qualcun altro Se non riuscivano, magari, no, a vincere A livello di squadra E quindi questa cosa Era un po' fastidiosa Da Appunto, cioè Non è colpa di qualcun altro Se non riesci a vincere con quei giocatori È che c'erano Banalmente Giocatori che erano cento volte i tuoi In quel preciso momento Il problema è che cento volte no Per carità, cento volte esagerà Però erano superiori ai tuoi Non è che ci fosse, tra virgolette Anche Matthaus, porca miseria Un giocatore devastante Ma lo stesso Rummenigge Che semplicemente Termina dei tulipani Era dieci volte Cioè, c'è poco da fare Ma perché era dieci volte qualsiasi Ma che fosse dieci volte l'Inter Era dieci volte Qualsiasi squadra Era quello il problema Di quel Milan lì Era troppo Non Infermabile Cioè Per me Quel Milan lì Probabilmente è stata la squadra Più forte di tutti i tempi Ma guarda Ci sono state tante squadre grandiose Che hanno raccolto meno di quanto seminato Anche il Milan di Ancelotti Per me ha raccolto molto meno di quanto seminato E poi soprattutto Se la giocavano con altre squadre Che erano veramente esagerate Cioè È stato un po' quello il problema Da quel Milan lì Un Milan che si può permettere di schierarti Capirlo Sedorf Assieme Poi Gattuso fa d'ago della bilancia Qualcosa di spaventoso E vabbè Quella è una roba Cioè A far la rivoluzione Con Cioè Guarda Io Su Sacchi Non sono tanto d'accordo Perché sinceramente Far la rivoluzione Quando tu hai comunque È come dire che Immaginati come se fosse arrivato La mitragliatrice Durante la conquista Dell'impero romano E dici Ah cavolo Giulio Cesar E lì fu Fu rivoluzionario E la rivoluzione vera Fu la creazione Della mitragliatrice Cioè È troppo superiore Rispetto a qualsiasi altra arma Usasse l'impero romano Fino in quel momento Cioè capito Sacchi è stato rivoluzionario Ma è stato rivoluzionario Con Gulli Tra Icard E Van Basten Io volevo proprio vedere Se sarebbe stato così rivoluzionario Anche banalmente Con Rummenighe Mataus E Bremen Cioè È quello che Che vado a dire È troppo facile Fare le rivoluzioni Con giocatori del genere Cruyff con giocatori Un po' meno Rispetto a quelli Col Barcellona Comunque è cambiato L'idea del calcio Fondamentalmente Sì Ma a un conto Cioè Con tutto quello che vuoi Ma assolutissimamente Ma non è Cioè La rivoluzione che lui ha proposto L'ha potuta proporre Esattamente come il Barcellona Per esempio Di Guardiola L'ha potuta proporre Perché c'erano quei giocatori Lì Cioè È quello Non è che il modello Allora Il modello che Sacchi ha proposto Banalmente È un modello che non è replicabile Nei più È quello che dico È la stessa È la stessa criticità Che io mosso A Guardiola Quando pratico È il Barcellona di Guardiola Grazie Sì Quelli E altri però Non lo possono fare Tant'è che Guardiola Fuori da quel modello lì Non riesce a Se tu Io faccio sempre L'esempio del Bayern Col Bayern Fondamentalmente Cioè Chi I veri rivoluzionari Se durano Sono allenatori Tipo Xabi Alonso Xabi Alonso Ha tutto De Zerbi Quelli sono modelli Che possono essere replicati Perché Ovviamente Funzionano Fondamentalmente È quello Poi bisogna capire Se durano Ma secondo me Un allenatore Come Xabi Alonso Ha tutte le qualità Per poter durare Cioè Quelli sono potenzialmente Dei rivoluzionari Mancelotti è un gestore È il più grande Allenatore di sempre Però non è un rivoluzionario Cioè per me Sacchi Al di fuori Di quel Milan lì Che cavolo ha fatto Sacchi Cioè Ci ha fatto perdere Un mondiale Con una nazionale Che era dieci volte Tutte le altre Perché Metteva Zola E Baggio Terzini Che cacchio Di rivoluzione È questa Cioè Sacchi È imbarazzante Cioè Guarda che Veramente Ha fatto perdere Delle robe Che Boh Cioè Mettevi a me Ad allenare Quel Milan Era la stessa cosa Cioè Era identico Fondamentalmente Ma a me Come chiunque altro Cioè Poi Vedi Invece Allenatori Tipo Guardiola Comunque Vincono Sempre Sacchi No Cioè Quindi Il maestro Dei miei fagioli Cioè Lui chiede rispetto Ma è il primo Che manca spesso E volentieri Di rispetto A chi Magari ne sa Anche qualcosa In più di lui Eh Attenzione Perché Comunque Cioè Lui ha potuto Sempre Comunque Allenare Delle realtà Che sono devastanti E ha perso Spesso i volentieri Con realtà Nettamente superiore Rispetto a Cioè Sacchi per me È un sopravvalutato Clamorone Non ha fatto rivoluzione Di niente La rivoluzione è vera Lì l'ha fatta Berlusconi Mettendo assieme Quello che ha messo assieme Eh Cioè Cioè A un certo punto A un certo punto Eh Sacchi disse O Van Basten O me A Berlusconi Cioè A Berlusconi disse Sì ascolta Vai Quella è la porta Vai Arrivo Cappello Non mi pare Che la musica Cambiò più di tanto Eh Cioè Anzi Cioè Fondamentalmente La musica Rimase uguale Anzi Forse Cappello Diede in qualche modo Un minimo slancio Che Stavamo perdendo Con sacchi allenatori Attenzione Poi nessuno Rinega che fosse Un buon allenatore Ma da qui I maestri Sono altri I maestri Sono altri Ragazzi Cioè I maestri Sono Ancelotti Maestri Sono gli stessi Guardiola I maestri Sono Sono i Klopp Sono gli Herrera I tempi Quelli sono i maestri Eh Cioè A fare la rivoluzione Con i mostri Sono tutti bravi Non Non si Cioè Sacchi Lascialo dov'è Sacchi è un miracolato Paro paro a costa curta Giocatore Uguale Un miracolato Un allenatore Che se per sbaglio Non allena quel Milan lì Non se lo ricorderebbe nessuno Parma di Sacchi È una squadra gradevole Per carità Ma per me Già l'Atalanta Di Gasperini Se lo paragoni a quel Parma lì È dieci volte Ma Ranieri È un maestro Innubbiamente Assolutamente Ecco Cioè Quello che ha fatto Ranieri con l'Ester Baralmente Sacchi Non lo potrebbe fare Neanche se si reincarnasse In dieci vite Guarda Non ti preoccupare Non ti preoccupare Anche perché poi Il valore di quei giocatori L'abbiamo visto Alla fine qual era A parte Cantè Tutti gli altri Non è che hanno avuto Sta carriera brillante Quindi doppiamente Miracolo Cioè Bisogna anche dirle Ragà Le cose Come stanno Perché poi Ripeto Se la cantano E se la suonano Vedi Costa Curta Ieri Che si permette Di dare addosso A un ragazzino Come Gabbia Che gli ha dato Più lezioni di stile In cinque minuti Di quante non ne abbia mai Avuto lui In tutta la sua carriera Come giocatore Cioè nel senso Come persona Pure meno Perché non è che Questa curta Non è nuovo A queste fesserie Attenzione Quindi A me I miracolati Mi danno un po' Sui nervi Sinceramente Perché Se sei miracolato E sei consapevole Di esserlo Mi stai anche simpatico Ma se sei miracolato E ti pensi anche Di più di quello che sei Allora cominci veramente A darmi sui nervi Perché è quella Perché altri dal tuo posto Che ribadisco il concetto Ne sanno dieci volte Più di te Purtroppo hanno avuto Semplicemente la sfortuna Di Non essere lì Al posto giusto Al momento giusto Come è capitato a te E' quello il discorso Buonasera La Queen del canale Felicity Benvenuta Calcisticamente parlando Cioè E' una scena imbarazzante Quella di ieri Di questa curta con Gabbia Non so se l'avete vista Ma Cioè Veramente imbarazzante Un po' come la scena Tra Tra Sacchi E Allegri Allegri è una capra Indubbiamente Ma tutto quello che ha detto A Sacchi E' vero Cioè E' vero Io ti auguro di vincere Un paio di Champions League Ciccio Tu le Champions League Le hai vinte Perché Cioè la tua squadra Era vera a me Ma davvero però Dieci volte tutte le altre Cioè Non I tuoi meriti ci sono Nel senso di non aver creato Troppi danni Questo si Questo indubbiamente Ma quel Milan lì Era qualcosa di surreale Qualcosa che Che sulla carta E' come se metti 101 di overall A tutti i giocatori Cioè Ma raga Ma ve lo ricordate Quel Milan lì Ma cioè Dai E l'avversario La Versaia del Barcellona Di Stoico Non è esattamente Il Manchester City Guardiola Cioè Nel senso Era un gran Barcellona Quello Ma non a livello Dei carri armati Che con cui poi Magari si è dovuto Confrontare Dopo per esempio Il Milan di Ancelotti O paralmente Anche il Barcellona Di Messi Doveva stare appresso Il Real Madrid Di Cristiano Ronaldo Cioè Ragazzi E' una differenza Di squadre Disumana Cioè Disumana Il Milan di Sacchi Aveva dei belli avversari Indubbiamente Ma non a quei livelli Cioè Non Raga Non c'è molto altro Da dire Secondo me Ti auguro di vince Un paio di coppie Da campioni E attenzione Che poi Allegri le stava anche Vincendo Con una squadra Tre volte inferiore A quel Barcellona La sfiorata Prima con Real E poi con Barcellona Io non lo so Se Sacchi Con quella Juventus Riuscì ad arrivare Due volte in finale Di Champions League E ci è arrivato Pure discretamente bene Poi che Allegri attualmente Adesso faccia giocare male La sua squadra Quello è un dato di fatto Da anni così Però Attenzione Solo che Giustamente Come giusto che sia I piazzamenti Non fanno storia Ci mancherebbe altro Ed è giusto che sia così Però Sai Bisogna anche Paragonare Delle due carriere Ripeto Sacchi Fuori dal Milan Non ha vinto Nulla Punto E ha fatto perdere Anche un certo mondiale All'Italia Quindi Insomma Che banalmente La dai a Trappattoni Quella nazionale lì Cioè La dai anche Allo stesso Lippi Che per carità Anche lui Allenatore Come maniera di protagonismo Ma La dai a Lippi E te lo vince Agevolmente Il mondiale Quella nazionale lì Eh Vabbè Anche Trappattoni Lì è stato spiegato Poi 2002 2004 Cioè È successo sempre di tutto Surreale Veramente Cioè La situazione del mondiale 2002 È qualcosa di Di clamorò Cioè È una roba mai vista Cioè Cioè Quel mondiale È falsato In una maniera Incredibile Esatto Sì Sì Nel caso Si parla di Inter Ovviamente Cioè Se arrivi il terzo Hai grosse possibilità Di vincere Anche Anche lo scudetto Certo Questo sì Buonasera Dani Buonasera 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 Anche a Peppe Buonasera ragazzi Signori Siamo pronti Siamo pronti Dopo questa partita Giochiamo assieme Scegliete voi Coop Uno contro uno Quello che vi pare Non c'è l'evento Eh Esatto Ma secondo me Guarda Secondo me Neanche Secondo me Paragonabile Al Milan di Sacchi A mio parere A quei livelli lì C'è il Barcellona Di Guardiola Sicuramente Sarà gioca Perché quel Barcellona Era impressionante Guardiola Raccolto anche meno Di quanto potesse Secondo me Ha raccolto anche Un po' meno Di quanto potesse Ma io ti dico Anche la stessa Lo stesso Milan Di Ancelotti Eh Il Milan di Ancelotti Banalmente Dico il Milan del 2005 Quello che ha perso La fila è con Liverpool Quel Milan lì Quel Milan lì Era qualcosa Di allucinante Raga Cioè quel Milan lì Era 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 Disturbante Da quanto era forte Disturbante Davvero Cioè In attacco Avevamo Crespo Shevchenko Trequartista Kakà Centrocampo Pirlo Sedorf Gattuso Nel loro Momento Prime Maldini Nesta Mi sa che c'era anche Stam Cafu A sinistra Potevi mettere Serginio Lo stesso Maldini Cioè Raga ma che squadra Ma che squadra Cioè Non ha senso Neanche se la fai su PES E te la costruisci da solo Ti esce una squadra così Raga Cioè Impossibile Tommaso Anche signor giocatore Certo 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 Non ti esce una squadra così Raga È qualcosa di incredibile Poi Te la giocavi in campionato Con la Juve Ma Anche la Juve Era una signora squadra Eh Attenzione Era una signora squadra Veramente Però Non è Non è Sennò me Vinceva gli scuetti Ma non arrivava A livelli di quel Milan Perché il Milan Buttava via punti Per strada In campionato In una maniera Incredibile Poi Non è che a centrocampo Scarseggiasse la scelta Eh Cioè Usciva uno Tra Seedorf Entrava Ambrosini Cioè Nel senso Non Era un signor giocatore Eppure lui Bel giocatore C'era anche Viga Poi qualche Qualche giocatore così Vedi tipo Tommaso Mi pare che ci fosse Anche già Kurkuf Non erro Adesso mi ricordo Bene Comunque qualche giocatore Anche che non ce l'ha fatta Ma che era comunque Di livello Per carità Insomma Già ce ne stanno Di situazioni Comunque volevo farmi un evento Shallow Ma questo Blade Gold Mi fa inchinare Attenzione Non pensavo Secondo me La schiappetta Pure Perché oggi Sono proprio Stanco Quindi non ho Molta lucidità Fuori gioco Questo è fuori gioco Ci siete dopo Per un uno contro uno Per una cop Ci state ragazzi E' il vostro Giorno Ovviamente Se voi non ci siete Io vi Vi intrattengo Con qualche partita Qua sugli eventi Comunque Attenzione Ah vedi Sta pure il portiere Sei pazzo Sei pazzo Sei pazzo Non è più Non c'è C'è Come l'hai livellata Sta carta Troppo rotto Quelle auli Troppo rotto Esagerato Non c'ha senso Perfetto Troppo rotto Devi solo Devi solo Muovere la levetta Premere il re 2 Vada a sol Ma era Cos'era Cold and goal Era diventato No No Ficcaio No Veramente Esagerato Quelle aul Non E' Esagerato Poi pure il giocatore Chiav C'ho cazzo E' troppo forte E' troppo forte Troppo 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 forte Poi per carità Ognuno Sa il suo Non lo so raga Cosa preferite Cop Uno contro uno Cosa volete fare Raga A metal Tutto a posto Caro Quello che volete C'è qualcuno Che si vuole Approciare No Cop Ragazzi Dobbiamo essere Almeno in 4 Però eh Scrivete in chat Se ci siete Raga Se scrivete Che non ci siete O nessuno Dice niente Io continuo Con gli eventi Perché Sinceramente Non voglio Come dire Rimanere Come l'altro giorno Che abbiamo aspettato Mezz'ora Per entrare Bella Nick Ti auguro Di non avere I giocatori Paralizzati Come c'è Lui ogni volta Che lo becco Per carità di dio Lì male male Lì male 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 Marissimo Grande Se ci sta Qualcuno Ragazzi Se siete Già pronti Per una coppa Per un uno contro uno Io sono già pronto Sono già pronto Apro la stanza Ah ma io non ti ho chiesto Se hai vinto o perso Anzi Veramente Non ti ho chiesto niente In realtà Io ti ho solo augurato Che i giocatori Pesanti Porco giuda Ma allora Forse veramente Comincio Forse è meglio Che Bisogna Farsi veramente Una domanda Se non è davvero Se non abbia davvero lui Un problema Alla connessione Perché Veramente Se Tutte le persone Si lamentano Perché ho sentito Anche di altri Che si sono lamentati Cioè Però Per carità Mai lui dice Vabbè io gioco bene Che cosa me ne fre Ci sta Nel senso Onesto Onesto Vabbè Prossima volta Se vedo dopo 5 minuti Che i miei sono Letteralmente paralizzati Butto la palla fuori E quitto direttamente Non è che Non è che ci metta molto Ma allora ragazzi Facciamo partita Amico Prego ragazzi Cop Accomodatevi Almeno Dobbiamo essere Almeno in 4 Per giocare Quindi Beppe ci sta Si Dani Dalla play Beppe ci sta Certo Vieni Vieni Dani Assolutamente Assolutamente Allora Allora C'è che serve Almeno un altro Ragazzi Ma ci sono Comunque Tre posti Liberi Eh Tre posti Liberi Dai Venite Mica Sto Cale sta Bene con Tutto Bellissimo Bellissimo Grande metal Allora in 4 Ci siamo Altri due posti Aperti Raga C'è 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 anche C'è anche Vep Adesso sta Arrivando Dani Quindi Oltre a Dani Altri due Posti Ragazzi Forza 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 Accomodatevi Signori Signori E ci Facciamo Un paio Di Coppetta Assieme Venite Popolo Venite Venite Pueblo C'è posto C'è posto Ragazzi Non fate i timidi Non fate i timidi Non fate i timidi Lo sapete Non dovete fare i timidi Forza Vai Dai Ti aspettiamo Comunque Ragazzi Giuro Oggi C'ho Una Stanchezza Una Pesantezza C'ho Una voglia Di andare A led Non so Voi Quelle giornate Che proprio Ti senti La testa Che è un mattone C'è Che dici Non vedo l'ora Di buttarmi giù Nelle coperte C'è Proprio Di quella Di quelle giornate Sopurifere Che dormirei Tutto Tutto il giorno Dici Beh Allora È vero Perché Comunque Guarda Ti dico solo Lunedì È lunedì Di un inizio settimana Un po' Un po' Così Perché sabato È stato Un bel sabato Da Che non facevo Da tanto Perché sono uscito Baralmente Con Con i miei amici Amici Proprio Storici Che non Che non Vedevo Da un botto Di tempo Mi sono divertito Tantissimo Proprio Un botto Veramente Una di quelle belle Serate Leggera In cui L'abbiamo Mangiato Come Magliari Abbiamo Bevuto Senza Esagerare Capito Quindi Proprio Una serata Bella Piaceva E poi La domenica Altra giornata Bellissima Perché sono andato Con la mia ragazza Ci siamo fatti Un po' Di sciopi E ci siamo visti Un film Veramente Inquiettante Nel senso che Comunque Con la sensazione Una commedia D'amore Che sembra Dovesse succedere Chissà che cosa Successe Un film coreano Che succede qualcosa Cazzo succede qualcosa Minchia Sicuramente succede qualcosa Adesso Non è successo Un cazzo Tutto il film E quindi Comunque È stato Lo stesso Ti devo dire Ti devo dire Che comunque sia C'è anche Quella sensazione In quei film Così Ogni tanto Esatto Bravo Esattamente Metal Proprio quello Devo dire Che Che anche Quel tipo di film Ci può stare Ci può stare Mi è piaciuto molto Cioè A me A volte Anche questi film Che Tipo Ti lasciano Con la mare in bocca Perché dici Ma che cazzo Ma è finito Quindi sono state Veramente Due belle serate Ti ritrovi Con lunedì Iniziato così Che è veramente Buonasera Mister Cocco Sì È proprio Il classico Metal È proprio Il classico Metal Devil Proprio film Asiatico Proprio Puro Stereotipato Al massimo Cioè Veramente Micidiale È una sensazione Proprio Mio Dio Adesso Adesso Trombano Adesso Trombano Capite Trombano E non tromba Nessun Cioè Incredico Pazzesco È un po' Questo Il discorso Anche perché L'alternativa Era il solito Idiot E tre Perché Ci poteva Anche stare Però Non Non spicca Troppo Nelle preferenze Della Della mia ragazza Prego Prego Si scateni Faccia Facci Guardi che bella Guardi che bella squadra Bello Velviera Oh Velviera La testa gigante Perché la testa così grande Velviera Mamma mia Bello Velvinicius Bello Mi garba Velvinicius È L'unica pretesa Che le faccio Me lo metta Titolare Catanuzzo L'unica pretesa Che le faccio È che mi metta Velvinicius Titolare Guarda Per me Tanuzzo Check E Smichel Sono pari Pari Allo stesso Identico Il livello Di forza Viste Analizzati Sono Due Portieri Diversi Però Tutti e due Top 1 Non puoi decidere Chi è più forte Dell'altro Perché è molto Dipende dal tuo modo Di giocare Quello che ti posso dire È che per come Gioco io Sicuramente Mi trovo meglio Con check Perché mi è capitato Di provarlo Con altri account Non il mio E mi trovo meglio Con check Però Attenzione Ripeto Come gioco io Secondo me Cioè Veramente Sono due portieri Che o gioco all'uno O gioco all'altro Hai due muri Insuperabili Che importa Ah ci è tutti e due Perfetto Ma allora Banalmente Te la cavi Facciano giocare L'uno Piuttosto Dell'altro In base alla forza Chi sta a me Cioè in base alla condizione Chi sta meglio Gioca Molto semplicemente Io la imposterei così Avendoci Tutti e due Quasi quasi Farei l'eccezione Di portare il portiere In panchina Beh Beppe Oddio Ti dico la verità Secondo me Proprio per niente Non Non vedo Onestamente Nulla Di più Nulla di più Rispetto alle carte Di per sé Base Nel senso Che veramente La carta per dire Di Arand È scandalosa È fatta proprio male Ne parlavamo Beh Nella Nella live Praticamente Che abbiamo fatto Giovedì scorso Quando ho recensito I giocatori Tant'è poi Se vai a vedere Anche le recensioni Che ho messo Sul mio twitter Male male Bellingham E paro paro Al giocatore chiave Che è uscito Qualche tempo fa Sempre Player of the week Con la differenza Però che è più storto Sui passaggi Quindi secondo me È una pecca Per un centrocampista Non arriva ad avere Grandissime qualità Di finalizzazione Quindi anche a livello Di inserimento Male male Cioè mi sarà Proprio una carta Ma banalmente Ti direi Totalmente Squilibrata L'unica carta Un po' più interessante Di quelle A mio parere È Orsorini Ok Sì perché Magari ti sei soffermato Solo sull'overall complessivo Orsorini Probabilmente È la carta Più Bellina Ma Capisci che A questo punto Del gioco Con tutti questi Giocatori che ci sono Non è altro che Una carta Messa lì Tanto per Divertirsi È normale Cioè Non può essere Non può essere A livello Di 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 niente Sono d'accordo Con Yuri Una coppia Su pc Allora io Su pc Ragazzi Posso giocare Veramente Ormai Il minimo Sindacale Perché Tutti i giochi Che ho Che avevo Praticamente Sul pc Li ho spostati Su un hard disk Esterno Che però Ogni tanto Si sgancia E quindi Diciamo che Ci posso fare Una partita Ogni tanto Potrebbe darsi Che magari In due ore Non caschi Mai niente Così come Potrebbe darsi Che Potrebbe darsi Che magari Appunto Appunto Caschi Ogni due Per due Quindi Purtroppo Finché Non Non risolvo Questa cosa Delle Delle Della hard disk Che deve Rimare Attaccato È abbastanza Complicato Fare E poi C'è un altro Problema Su pc Praticamente Quelli che Giocavano Più in cop Che Che sono Veleno E lucca Adesso Sono su play Quindi Diciamo che Se già su Già su playstation Abbiamo difficoltà A giocare in cop E io lo sapevo Da quel punto di vista Sono stato Buon profet Perché vi ricordate Che cosa vi dicevo Delle cop Vedrete Che quando Le metteranno Vedrete Che qua Eccolo Ecco il maestro Vedrete Che quando Entreranno Cioè Scusate Vedrete Che quando Le metteranno Non riusciremo Ad avere Comunque Una flusso Talmente grande Facciamo due cop Le facciamo due cop E durerà L'effetto Durerà Massimo Due settimane E ero stato Ottimista Come vedi Tipo Anche per far partire Una cop Ci vuole Veramente Un cristo Raga Un cristo Ed è una cosa Che tuttora Mi viene richiesta Molto Tipo Oggi Mi sono reso conto Su Discord C'è un Giusto per spiegarvi Su Discord C'è un bot Che praticamente A seconda Di alcuni messaggi chiave Tipo Giochi con me Giochiamo E fa partire Un messaggio automatico Che In poche parole Dice Per giocare Con l'Aronzo Gray Fox Passa dei follower Day Sui sports Rivals Cop E praticamente Questo tipo Metterà tutta l'ora Le parole chiave In sostanza E si è ritrovato Tre volte Dal bot Lo stesso messaggio E praticamente Stava spammando Tutta l'ora Io le ho tolte Brutalmente Le notifiche di Discord Perché è un'app Che mi fa Alquanto cagare Vado ogni tanto Nel mio gruppo Che vedo che Che appunto Ci può essere Qualche domanda In più Le persone che compro Su Instant Gaming Ho messo Il bot Che sostanzialmente Fa vedere Quando qualcuno Ha comprato Dal mio link Di affiliazione Mi sembra giusto È doveroso Il minimo Mettere un cuoricino Un qualcosa Per ringraziare Chi compra Il mio link È il minimo Cioè È proprio Il minimo Sindacale E per il resto Però non lo uso Mi dà sempre Problemi Di Discord Anche con la messaggistica È È proprio È proprio Veramente Proprio Veramente Boh Io la trovo Un'app Che gli altri Si trovavano bene Io ho sempre 1200 problemi Con quest'app Sinceramente Ed è l'unica Di messaggistica Così Con cui Con cui Ho problemi E abbiamo visto Questi 3000 messaggi Di Di questa persona Eh beh Certo Certo Praticamente Siamo Cioè Non siamo Che golletto Di Gullit Porca miseria Cioè In sostanza Vedo i messaggi Di questa persona Allora Dai giochiamo Minchia Questo Mi ricordo Che mi scriva Tantissimo Anche a Junior Quindi prima Che mettersi il bot Giochiamo 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 Eh Sono migliorato Un sacco Allo Voglio diventare Un pro player Tutte Tutte cos'è Perché È giusto Che Non sto lì A spiegargli Neanche Non esiste Il professionismo Su sto gioco Perché tanto Non ha senso Vieni Vieni qua In live Che giochiamo Oh E Praticamente Tutto il giorno Mi sta scrivendo Gli ho detto Mille volte Che ero Oggi In live Qua sui sports Rivals Per giocare Uno contro uno Voi lo vedete Raga Cioè E in chat Cioè C'è ancora tempo Per carità Potrebbe Potrebbe arrivare Magari A Non lo so Alle 11 Così come Tra 5 minuti Però io ero sicuro Che non si sarebbe Mai presentato Oggi E quello Nei prossimi giorni Continuerà a scrivere Giochiamo 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 Cioè Per dire Questo per dire Che banalmente Non è No 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 Di Non è Vero mascherato Non lo so Che era una battuta Però per dire Che la voglia Così tanta Di giocare Poi in coppa Questo gioco Che dice Le coppe Le coppe Cioè Raga Non c'è Non c'è Foglia Né di far Uno contro Uno Né di far Coppe Con il sottoscritto Dico Perché se ci fosse Banalmente Quando faccio i follower day Con tutte le richieste Che comunque Arrivano Giustamente Dovrebbe essere Tutta l'ora pieno Invece Porca miseria Poi per carità Magari Banalmente La gente La volete giocare in coppe Non la volete giocare con me Però Una cosa Che ho notato È che Se lo faccio Sul mio canale Sul mio canale Ragazzi C'è molto più C'è molto più Come dire Afflusso Nel senso La gente entra prima Per giocare Effettivamente Qua sui sports rivals Non riesco a capire Ma siete più timidi C'è anche Da dire una cosa Però è importante Twitch Te la fa pagare cara Quando tu Fai partire La seconda live Di giornata Quindi una volta Che magari Qualcun altro Ha streamato E poi tu Parti dopo A livello di algoritmo Sei più Svantaggiato È vero Anche questo Quindi Questo Dobbiamo dirlo Raga Mi piace Che Che Metal Ha messo I kanji Giapponesi Per questa squadra Stupendo Stupendo Abbiamo rischiato Qui ma Metal era pronto L'ho visto Bello Questo mi è piaciuto Questo mi è piaciuto Mette De V G Mette 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 De V G Stavo provando A convertire Il 3 Con la Con la E Però non riesco Comunque Non riesco Comunque A leggerlo Poi io voglio Chiedere Luigi Il suo nickname Perché è molto Esotico No ma non è A questione No ma è però Attenzione lo so Che tu Sempre vuoi buttare A modo di battuta Però C'è A livello A livello Serioso Non riesco Non riesco a capire Perché Se tante persone Poi banalmente Ti chiedono Di giocare assieme Tutto quanto Eccetera eccetera Perché poi Quando ci sia L'occasione Di giocare assieme Cioè Capolo Lo propongo Anche ad orari Abbastanza diversi Non il follower day Non è che sia Non sempre Poi Non è che Cioè Vedi che alla fine Comunque riusciamo A giocare Però Non riesco a capire Sinceramente Ma questa Attenzione Questa è una cosa Non adesso Che uno dice Grazie Sky Grazie Per l'approvamento Sports Rivals Ben ritornato Caro Anzi Benvenuto Prima sub Qua sul canale Cioè Quello che Che dico adesso Uno dice Vabbè Ma sai Sono 11 12 persone Stanno guardando E dice Vabbè Sono in pochi Ok No no Però questa è una questione Che capita Anche Io mi ricordo Anche su PES O comunque sia Cioè Anche Ma anche su FIFA Magari quando facevamo Le live Avevamo 30 Buonasera Avevamo 30 40 persone Anche su FIFA Eccetera Cioè Cazzo Non era così facile Iniziare una partita Cioè È quello che io Che io Che io Contesto Ma Eppure Non è una questione D'orario Ripeto Perché tante volte Capitava magari Un orario De formazione Professionale Tante volte Capitava magari Un orario Appunto No Eh Diverso Rispetto a quello Che capitava Poi il giorno Dopo È quello che io Boh Non capisco Sinceramente Però magari Me lo potete Spiegare anche voi Secondo voi Perché Discorso Eppure è stata una cosa Che ricordo Che per un tot Di tempo Quasi due anni No di più Forse Non abbiamo proprio Avuto su I football Eh Cioè non esisteva Proprio la coppia Quindi è stata Anche una cosa Che abbiamo Aspettato abbastanza È stata una roba Che abbiamo Propriamente Aspettato abbastanza Però Il periodo Che faccio Follower day Praticamente Facendo uno Contro uno E basta Quello Quello andava Forte Quello Andava abbastanza Forte La verità Perché C'ha C'ha Batman Peppe Che voleva sempre Sempre Ma che ha fatto Batman Peppe Soprattutto Cioè Peppe Non l'ho più visto Ragazzi Il follower day Era Era sempre Battagliero Mi è sparito Il buon Batman Peppe L'abbiamo perduto Sky Che banalmente Molta gente Chiede Tipo di Giocare Contro Con Eccetera Però Quando Praticamente La mettiamo In sostanza Come Come contenuto Lo metto Come contenuto Anche sul mio canale Fa un po' di fatica Ad acchiappare Cioè Ma questo Da sempre Nonostante sia Nel corso degli anni Stanto bombardato E vengo Tuttora Giochiamo Io Volentieri E che giustamente Dovendo fare Anche altre cose Non Cioè Ma Boh Pure Dovendo fare Anche altre cose In live Vedi che oggi Siamo rimasti Praticamente Quasi No Due ore Analizzando le carte Facciamo le build Facciamo tutte le cose Così Così Diventa difficile Poi il tempo Limitato Ti giuro Lu te lo ripeto Lo stavo dicendo Anche prima C'è un ragazzo Che Su discord Ho messo un botto Che risponde A determinate parole chiave Se mi scrivono In privato Tipo giocare Cose così Esce lo stesso Identico Messaggio E Il messaggio È praticamente Un messaggio Di invito A seguire la programmazione Sui sports Libals Che Praticamente C'è il follower day No Per giocare Oh Questo Bombardato Ma ha scritto Tipo C'è No 20 Messaggi Però 18 16 Si Oh Rispondimi bene Oh Rispondimi bene C'è Trovo tutte scritte cose Così C'è No C'è E gli ho detto Oh scusa Guarda È vero C'è Questo messaggio Automatico Che Purtroppo Non li guardo Molti I messaggi Su discord Vai Appunto Come ti dice Il messaggio Automatico Proprio oggi Sono in live Sui sports Rivals Sergio Facciamo due Contro due Ho detto Vieni In live Stasera Mi scrivi In la chat E E giochiamo Uno contro uno Due contro due Come vuoi tu Tranquillamente Tu l'hai visto L'hai visto Cioè Mi ha bombardato Praticamente La chat privata Di discord Non c'è Non c'è E domani Sono sicuro Quando giochiamo Quando giochiamo Sicuro Che se riapro la chat Lo ritrovo Di nuovo C'è Poi magari Passerà alle 23 Passerà alle 23 30 Può passare C'è Uno pensa Vabbè C'è Dalle 21 e 30 Quindi banalmente Se passo Se passo alle 3 del mattino Magari lo trovo No Chiaramente No C'è Però Magari Mi viene da pensare Giuse No Perché Non Perché 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 Poi Guarda Se ti faccio rivedere La chat Cioè Anche l'ultima volta Che mi aveva Cioè Era un martello Che scriveva Tutta l'ol Tutta l'ol Tutta l'ol Giochiamo 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 E poi però Minchia Lascia perdere Cioè Purtroppo È cattivo È brutto Quello che sto per dire Però Cioè Devi anche Io rispondo sempre a tutti Lo sai Per Per mia Però devi anche lasciare andare Molto Perché Perché Veramente Altrimenti Ne esci pazzo Adesso ho visto il messaggio Ho visto che aveva risposto il bot Ho risposto anch'io Gli orari di giocare con i follower Sono quelli Non puoi stare Non puoi stare a scrivere A ogni singola persona Cioè Dopo un tot Che comunque Tu fai un tot di contenuti E Fai un tot Banalmente Quando vuoi Effi Fai un tot Banalmente Io adesso Riapro la stanza Ragazzi Rimaniamo 5 minuti così Se entra qualcun altro Bene Altrimenti Anche quelli che sono entrati Prima possono rientrare Aspettate però Il mio segnale Eventualmente Per rientrare Cioè Fai un tot di contenuti Fai un tot di calendarizzazione Fai un tot di roba Fai un tot di cose Non puoi stare A scrivere Poi A ogni singola persona Oh Guarda che oggi c'è Oh Guarda che Cioè Il programma c'è Cosa Viene fatta Lo sai Ti piace questa cosa qui L'hai aspettata Eccetera Allora Se ti piace veramente Stai ovviamente A vedere la trasmissione Se no Evidentemente Magari è una cosa Anche banalmente Che non ti piace poi così tanto Se non quando viene comodo a te Ovviamente Ok Lì voglio arrivare E quando viene comodo a te Che una persona Deve stare ai tuoi comodi E ti arrabbi E ti arrabbi Se non stai tui comodi Quello Quello Raga Non Non bisogna dare corda A una situazione del genere Perché Perché veramente Ne esci scemo Tu immagini Moltiplicare questo Nel corso degli anni Per Dieci Cento Mille Che a volte Già così Ne esci scemo Figurati se Se facessi questa cosa qua Vedimi Giuse Non fa Non fa C'è una chat telegram generica Sono sicuro che Anche se non vado a vedere Sono sicuro che Francia ha preso Ha preso Ha scritto Alonso In live sui sports rivals Per giocare con 100-100 Sono sicuro che Non è obbligata Non è tenuta a farlo Io non ho mai chiesto Nulla di tutto ciò Oppure magari L'hai fatto L'hai fatto tu Vedi Abbonato Cioè Vai Guarda Guarda Allora non so che Mi fosce Ho come sui football 24 Senza che io Le dicessi niente Boom preso Boom preso Capito Se uno vuole Lo sa C'è Lo sa che è lì Lo sa tranquillamente È quello che dico È solo quello Che io Che io contesto Poi magari però Ti ritrovi Un tot Di richieste Per Andare a giocare Allora però Che vuole il singolo Individuo E quello non è giusto Perché comunque Cioè Bisogna fare contenti tutti Non solo Una Due Tre persone Che hanno la cosa Di A quest'ora Non ci sono Eh vabbè Viniomini Che cazzo Cioè Nel senso No? Non so se mi sono spiegato Ragazzi Fai un po' la figura L'Alessandra Morosa Eh ma se lo faccio a te Lo devo fare a tutti Però Cioè Lei si è riuscita a amare Con quella frase Lì al fa Però Cazzo Non aveva tutti i tordi Perché C'è una persona Che magari Super disponibile Però in quel contesto lì Se firmava Un autografo Al tipo Lei le doveva firmare Altre 250.000 C'è una pezzente Non sei umile Non c'è Eh C'è Ma sì Mimox È chiaro Ovvio Ovvio Lo capisco Doveva solo Più Un pezzo Di carta Ma magari Doveva iniziare Il concerto A fare la cosa Immaginate se Avesse dovuto Firmare E Sparare la cifra a caso 200 pezzi di carta Tutti assieme Ti capisco Quando parli Tecnologico Ti capisci Quando parlo Ti capisco Quando parli Tanto 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 No Lo capisco Cioè io Da un lato Non l'abbiasi Quella era una frase Quella era una frase Non lo so Però Non Non andiamo Non andiamo Non andiamo a stuzzicare Il canke doll Va bene così Tranquillo Quella è una frase Ragazzi Infelice Buttata un po' a caso Per carità Ma che Credetemi Io la capisco Cosa voleva dire lei Io lo capisco Cosa voleva dire lei Chi vuole entrare Ragazzi Può entrare Anche chi ha giocato prima Uno contro uno Nella stessa cosa Raga C'è Sì Dai Forza Assolutamente Io vi giuro Capisco Perfettamente Quello che voleva dire lei Se poi ti riferisci Come dire Alla Ehm Al bene supremo Che potesse dare Però ha detto Io ho detto Se lo faccio con te Devo farlo con tutti Non ho detto Se la do a te Devo darla a tutti Cioè Non è che fosse Non era così Fraintendibile Questa cosa Attenzione Mimox Occhio Lei è malatto Cioè Veramente Malatto Esatto Poi vorresti D'Alessandra Molotto D'Abraji Ti anda D'Alessandra Moloso Eh Custa Custa Di Alessandra Moloso Capito Eh già ti avevo capito Anche prima Che non volevo Non volevo darti La Come dire Il contentino Però Eh vabbè Ma Non è male Per Per Mimox Capito Già apprezza Caro Dottor Puccio Non volevo darti Il contentino su Ma vabbè Visto che Visto che Felicity Ci è andato Ti piacerebbe Allora Ho seguito Ho seguito Direttamente La ruota Tu pensa Pure peggio Se fosse stato Davvero quello E non il pezzo Di carta Anche peggio Con comprensione Massima In più Pure insultata Sta Cristiano Incredibile 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 Cos'è pazzi Ragazzi Ragazzi Veramente A volte Comunque Non Non lo capiamo Noi Noi che non abbiamo Magari Quella Cioè tu Immaginati Che ti stai facendo Una passeggiata In strada Vorresti farti Magari Cavoli Tu Presupposto Ovviamente Cioè tutto È tutto Dovuto Cioè tutto Come dire È ben riuscito Nel senso che Comunque Grazie a Dio C'è un bel conto In banca Cioè C'è delle cose Che i comuni Cristiani Non hanno Però Tante volte Quando quella Persona Magari Anche famosa Eccetera Magari La persona Più disponibile Nel mondo Ha fatto 300.000 Foto Sempre Ha fatto Sempre Magari Autografi Si è fermata A chiacchierare Con i fan Li ha ringraziati Ma perché Giusto Ragazzi Che sia così Io sono il primo Sempre che ha detto Che fare queste cose qua È giusto Ragazzi Almeno un'altra persona È giusto L'ho sempre detto Anche io Tipo Nei tre anni Che ho lavorato Ho vissuto solo di quello Che senza di voi Chiunque fa questo lavoro Content Content Artista Cantante Musicista Scrittore Perché non è un lavoro Dove tu Vai Banalmente A produrre un qualcosa Che è di vitale importanza No Alla fine L'unico lavoro Che serve È L'agricoltore L'agricoltore L'allevatore E il medico Quelli sono gli unici Tre lavori Che servono Per la sopravvivenza Umana Punto Ragazzi Tutti gli altri Che se ne dica Che se ne dica Dopo ragazzi Sono Francio Assolutamente sì Assolutamente sì Tutti gli altri lavori Dall'architetto Al ragioniere Al cassiere All'autista All' Ma veramente All'artista Qualsiasi altro lavoro Per Ma non serve Che sia un lavoro Capito Cioè nel senso Mimox Cioè Ragazzi Qualsiasi altra occupazione Nella vita Non è di vitale importanza L'unico lavoro Che serve davvero È Agricoltore Allevatore Dottore Punto E anzi Te la butto lì Anche per il dottore Fondamentalmente Anche per il dottore Guarda Aspettare Anche per il dottore Se la gente accettasse Il fatto che Vita naturale Durante si muore Non serve neanche più Il medico Non serve neanche più Un lavoro Quello Quindi per quello Dico Raga Nulla è scontato Cioè Niente scontato Nulla è scontato Perché poi Se tu vivi in società Qualsiasi cosa Tu vada a fare O fra un beneficio O un altro È sempre lavoro Per come impostato La regola della società Tu vuoi andare in banca Quello importante Per il dottore E serenità Che sienti Niente scontato Niente scontato Un节 Non serve neanche più Niente scontato Niente scontato Cioè Niente scontato Niente scontato Niente scontato Niente scontato Eccolo Uh bella E se siete in due si perché Perché Vincenzo mi ha detto praticamente No Di Tre posti quindi se siete in due si Dai un po' l'Uvercone Dai un po' meno male che è venuto il proprietario Del mio canale quindi del suo Canale a darci una E' arrivato E' arrivato Però da un lato Giuse Cioè sai hai ragione A me viene voglia di scrivergli adesso A quel ragazzo lì Cioè mi hai spammato di messaggi in chat Ma dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Cioè quindi da un lato Capisco anche il tuo No? Dici cavolo scrivilo per farlo contento Per farlo contento Più Per far contento di più tutti e due Perché a me vuoi dispiace Uno vuole giocare tanto Con il sottoschi Cazzo A me per me è un onore Cioè non è che sia Però ci vuole anche Un minimo Secondo me Un minimo Di fatto Se rendi conto Se è un messaggio automatico Quello che ti sta rispondendo Se è un messaggio automatico Basta anche leggere Magari ti indirizzerà a quello che vuoi No Cioè Minchia Aiuto Come si grazie Allora, vedi Peggio di Tason, mica questo nickname mi fa piegare Ogni volta, peggio di Tason è stupendo Ma usciamo anche la Samp Ragazzi, che squadra Che squadra veramente Caruccia, e vedi Le avversari che mostri hanno così Mamma santa, questo è peggio di voi Che scioccante questa squadra Oh, bella oh Quelle gorezche lì non riesco a capire proprio come un calcio Nelle palle rispetto agli altri che ci sono Però sai, perché è un po' per Riequilibrare È un po' per riequilibrare la situazione No, lo volevo dire, ho messo un po' Ho messo un po' a caso Vabbè, 1518 Sai, avevamo scoperto da poco l'America C'erano altre priorità, ci può stare Vabbè, Dottor Puccio, non è tutto mio Ma poi era preoccupato Vabbè, Vincenzo 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 Cioè, io sono un po' Sempre incasinato Giustamente Sto ragazzo No, no, cosa l'hai fatto Che c'è? Che ho fatto del male? Ho fatto del male Malissimo 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 Una roba Una roba Disumana Veramente Una roba Lascia sempre Un po' Il tempo Che trova In attesa Di membri Ma quanto può essere Inferi A proposito Di traduzioni Effi Ne parlavamo Prima Ma io Ma c'è Veramente È diverso È chiaro Che Waiting for members No, in inglese È una roba C'è È una roba diversa Ma tu in italiano Ma potre Cioè Ma mettici in attesa Dei giocatori Ma come fai a scrivere Attendere in attesa Di membri Cioè Ma io Io veramente Cioè Oh Se è lo chef Se è lo chef Secondo me Il pacco è impossibile Tra l'altro Dani Finalmente siamo assieme Incredibile Stai contento Che non stai giocando Più con Ahmed Abdul Come si chiamava Il ragazzo Che è entrato L'altra volta Mamma mia Che risato No, no Non ci voglio Che poi Poverio Alla seconda partita Ma è giocata Anche bene Pur usciò Verendice Bracon C'è Poca l'età Ho noto anche Un bellissimo Coolit punta Uuuuh Peccato Too bad Too bad Mica Diego A battantuno Falloso Eh Ma ne male qua Poi domani Mi aspettano Ben nove match In cronaca In inglese Non vedo l'ora Raga No vabbè Però sono gasato Perché sono sempre Bellissimo Yes Un po' più Preoccupato Magari Per Maro Ha piazzato Così bene Ma quello è il nuovo Sma Ah eccolo Quello vecchio Oh Bello Bello Onesto Onesto Bisogna stare attento Students Assemble Boom 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 Nella schiena Nella schiena Uuuu Attenzione Qua si crea Una bella Trance Eh Eh qua 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 in situazione Goal Sbagliato Con il suo Bet Rigiuoco Tostale Tostale Questa partita Mi piace Vi garba Vi garba Bello Mi ha scavalcato Il test Bello Questo Mi è piaciuto Mi è piaciuto Finchia E togo Le skill Ha i poteri Veri E togo Le skill Ha i poteri Veri Buona Un mano Incredibile Vincenzino Con quel piedino Fattato Riuscita Allungarsi Villiballo Non lo so Rick Ovviamente Grande Grandissimo Supporto Dal dottor Puccio Ci manca Il rap Giusto Brava Franci Ho sentito Buon sandwich A me Quel Rikard Raga Piace Veramente Troppo Per Rikard Sviluppo È Proprio Tre volte Il mio Big time Incredibile Bello Molto curioso Di Vedere Come Sarà Quello Raga Collante Meramente Tanto Tanto Curioso Oddio Pisciano Non c'è Niente Non ho Pisciato Bravo Bravissimo Navarro Una bella Palla Speravo Che avesse Il doppio Tocco Chi vince Tipo Quello Di F Sicuramente C'era La Neymar Proprio C'era La Neymar Comunque Potrei Aver Trovato Il mio Pupillo Che Kerkic Per Tanto Riguarda I Dopi Tocco Su Tre Abilità Così E' Uscito Questo Doppio Tocco Disumano Mi ha fatto Un piacere Ragazzi Vedere Quel doppio Tocco Ho detto Adesso L'uncia Romani Senza Se Senza Ma La versione Big time Che è tanta Roba In quel doppio Tocco Diventa Formidable Se è Formidable Signore Buona 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 Mi sta piacendo Sto match Bravi Ragazzi Bravi I nostri Avversari Bravi Anche I compagni La possiamo Recuperare Dai La possiamo Recuperare È un bel Game Concordo Concordo Così ci Piace Sempre In attesa Di membri Ragazzi Ci sono Più I membri Di una Volta E Comunque E Comunque E Comunque L'emote Mia È più Figa L'emote La Kenzo Fox È più bella Della Ribera Kenzo Mi dispiace Vatti Avevo impazienza Ma l'upgrade Che L'upgrade Che l'ho fatto Io Con il contornino A questa emoticon Non si batte Con tanto Di stem Eh Con tanto Di stem Vatti Portavazzia Tu hai iniziato L'opera Ma io L'ho Upgradata Esatto 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 Giusto Giusto Il mecenate A prova Poi vabbè Partiamo dal Presupposto Che Una volta Che fai qualcosa Su Kenzo Da un po' Che uscire Bene Lascia sempre E' lo giusto Che dico Minchia Ma lo sai Che era buono Con il rimbalzino Interno Così E ci provo Ma no Aveva fatto Anche un bel pezzo Qua nei mari Qua l'aveva rimessa Mezzo bene Ma roba Cosa stiamo No Raga Mi spiace Avete fatto un'azione Che era qualcosa Di meraviglioso Avete fatto un'azione Raga Bellissima Dove solo saltare L'uomo Una tassia Di passaggi stupendi Raga Complimenti Peccato Che peccato Ma questo E' il famosissimo Prattamaran Raga Dani Mi aspetto molto Con Prattamaran Ecco Più o meno Questo Più o meno Questo Cipostà Cipostà Il romario Del noantri Tra l'altro Mancino Raga Prattamaran Che giocatore Come se stai trovando Quella build Che Che te ho proposto Di Prattama Però mi ricò Sera lui Romario Un altro Prattamaran Ora ho Voto scontro Torquipero Boom Non sto male Tra l'auge Bravo 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 Sta curta Meglio qua In tutta la tua vita Ha cambiato 30 volte Questo giocatore Amortizer Ero già lì l'Uberk Ero già lì Ero già lì Lo sapevo Comunque il Mbappé Continua Continua ad essere Performante Continua ad essere Molto molto Perfetto Cos'hai quello è quello vecchio Mica che questo Pavard Raga Pavard è tantissima roba Tanta tanta roba Veramente Per la carta Questa qui Stop È tanto da Perciò Ero già lì Ero più Ero meglio Ero più Perciò Ero più è giusto, è giusto raga va bene mi avvicino un po' il microfono ragazzi perché da adesso parlo a bassa voce adesso parlerò a bassa voce potreste sentirmi comunque ho troppi problemi penso di sì ho tolto anche la musica avete notato questa live proprio per questo motivo che controllo peccato pulita questa cosa che mamma che il giocatore per la tampa è un po' smr si pulite c'ha questa cosa ragazzi che è veramente o anche se gli rimane comunque una stamina alta cioè il giocatore dopo 60-70 minuto comincia a non muoversi bene nonostante lui di resistenza sia perfetto ed è una cosa che non capisco è una cosa che ha solo lui quasi come se fosse fatta per nerfare la carta non mi ricordo se in situ in sé c'ha spirito combattivo chissà magari dandogli quell'abilità se potrebbe un po' baggargli la cosa cos'è rigore cos'è calcio di rigore signori e signori perchè quando hanno fatto la scivolata probabilmente hanno beccato gullit e sì con la schiena che cazzo raga veramente però ma rispetto a Dani quelli non si dovrebbero dare il mini decido le sorti di un game intero ragazzi mica pratama lo tira vabbè allora è fuori uuuuh cinismo pazzesco di pratama rana signori e signori inaspettato inaspettato pensavo che lo tirasse vista la punizione e invece il rigorista vista la punizione credevo la tirasse sul quinto anello buonasera caro rosso e invece e invece ragazzi pratama cinco e occhio eh bravo Sandrino bravo Sandrino mmm una botticiuina buonasera buonasera rosso buonasera non abbiamo su preventare ragazzi quindi tipo partite di campionato eh quello che succede nell'arco dei vuol dire 90 virtuali sarà decisivo attenzione fuori giuoco fuori giuoco mi sembrava oltre però l'arbitro che ci ha pensato un po' troppo ho detto cazzo vuoi vedere che vuoi vedere che finisce si però lei ormai conosce tutte le dinamiche della casa in una maniera impressionante bravi voi raga bravi bravi vedo un danni infuocato danni infuocato bene signori adesso tutti fuori entrano i nuovi tutti fuori ed entri i nuovi ragazzi e poi dopo cinque minuti se non dovesse entrare nessuno potranno rientrare le persone che hanno già giocato ovviamente quelli che faranno prima scusa certo prego prego chiunque non abbia giocato adesso ovviamente chiedo la cortesia a Davi scusa chiedo la cortesia a Dania Metal che hanno già fatto due partite di fila in caso voglio rientrare Francio l'Uver lo stesso turpuccio va bene Vince grazie a voi raga eh ho visto ho visto ok ti imbarazzano le mani ti imbarazzano in mani ok scusate ragazzi sono rottame sto morrendo di sonno veramente veramente sta ok ragazzi aspettiamo qualche minuto poi magari se se ci sarà di nuovo chi vuole entra ok ce l'abbiamo e lui è un bel maestro di skill interrotte la vetta e di skill in generale ok adesso tipo ok c'è anche seitaro slinger seitaro ce l'abbiamo altri due ragazzi adesso do il via libera a far rientrare anche chi ha giocato prima ovviamente chiedo la cortesia come spiegavo prima a metal e a danny che hanno già fatto due partiti di fila se ci sono altri ragazzi che hanno giocato prima che vogliono rigiocare sono i benvenuti però diamo la precedenza appunto magari ai francia ai luver ai dottor puccio che sono entrati sostanzialmente dopo però vedete che loro non vogliono entrare che non entro ecco esatto l'uver che c'è perfetto minca seitaro vuole essere leader accidenti minca che le bronce vabbè allora banalmente mettiamo tutti preferenza leader così si annullano tutto terribile prego ragazzi poi ritrai chiunque adesso ciao si benvenuto poi ritrai chiunque ragazzi chiunque anche adesso anche danny non ti fa entrare vuoi entrare francio aspetta ci penso io ok ci penso io ricordati che dove non arrivano come dire le cifre ci pensa l'altissimo tranquillo hanno messo l'invito quindi per vento di via l'invitato ti ho invitato poteri poteri sempre a disposizione raga lo sapete poteri incredibili disumani oserei dire strano prova a spegnere e accendere vince prova a spegnere e accedere la play quindi un po' se ti fa risolvere così ma trieti intanto le facciamo che un'altra dopo quindi se vuole entrare qualcun altro raga e poi partiamo magari convince lo facciamo entrare la prossima strano però misteri della fede veramente l'altissimo da e purtro un po' oltre altissimo toglie devastante 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 oltre oltre la prossima è la prossima si a risolvere si raga state vedendo magari anche altre persone che stanno avendo difficoltà a farla o F, Seitaro, Lebron richiudo la stanza e la rifaccio entrate subito, scusate però vediamo se riusciamo anche a far entrare una sesta persona, abbiate pazienza se poi vedo che in un minuto non entra nessuno la startiamo raga, senza problemi vedo scusa per il disagio il gioco è la pappetta, da quel punto di vista purtroppo non è molto intuitivo sulle lobby però di solito è anche abbastanza fluido ok perfetto ragazzi fortunatamente perché poi meno male che a livello di tornei va meglio questa cosa sicuramente ragazzi cioè immaginate se dovessimo giocare con la stessa pesantezza comunque con cui giochiamo in divisione ultimamente anche gli eventi raga stanno pizzicando invece in lobby comunque almeno i feedback che sento io ma anche che banalmente mi lasciate voi beh si gioca comunque meglio che in divisione barra eventi nulla raga adesso io riprovo a rimandare l'invito anche a Francio però vi ricordo ragazzi che potete entrare chiunque può entrare comunque può entrare aspettiamo cosa dice Francio anche perché non mi sembra però che ci sia nessun sesto giocatore in caso se se vediamo che che Vince non riesce ad entrare è startiamola perché poi guarda di quanto guà facciamo una bella cosa questa qui raga la mettiamo la mettiamo con rigori e tempi supplementari vieni Peppa assolutamente si vieni vieni così la mettiamo con rigori e tempi supplementari ragazzi così magari dura quella mezz'oretta e magari la possiamo lasciare anche come ultimo match di serata vediamo aspettiamo vediamo se Peppa riesce ad entrare faccia abbastanza faccia abbastanza faggio questo perché abbiamo il buon Lovercore da una parte abbiamo il Coachefi dall'altra un Seitarone carichissimo tra l'altro ha col dente avvenenato Seitarone che occhio Seitarone mi aveva paralizzato l'ultima volta chissà che magari non vadano bene a lui abbiamo uno schillatissimo Lebron James abbiamo un addormentatissimo Alonso Gray Fox quasi morto in questo momento deambulante proprio non ce la fa più non si legge più in piedi da patente respirati leader è vero due che invece che siamo io Lovercore che veramente ce ne sbattiamo completamente le scatte osservate non le facce dei giocatori vedi Lebron James è arrabbiatissimo l'unica foto di Cafu in cui è arrabbiato poi ci abbiamo Lover che dice fa la faccia vabbè io che che sono alluciato per dire Cornesta che c'è una espressione di dire ma dove cacchio sono finito Rykard che pare un giga chad Guardiola che sta palesemente smascellando certo che veramente le espressioni che prende Konami sono qualcosa di veramente scioccante raga stavo aspettando Peppe sei tar aspettando Peppe in realtà ho provato a evitare Francio ma mi sa che ha problemi di accesso alla stanza perché l'ho anche rifatto e quindi Peppe sta provando ad entrare così finiamo praticamente la sua guarda sta palesemente sta smascellando pesantemente guardiola cioè male male eh vedi la sei tar è altissima sei tar adesso adesso andiamo adesso andiamo in squadra insieme con sei tar come il panico te lo sto dicendo te lo sto dicendo secondo me il destino ci rimette la cosa ok ceppe e puzza perfetto raga supplementare i rigori la prima volta oggi che la mettiamo quindi ci divertiamo ci divertiamo ci divertiamo ci divertiamo sicuro sicuro ci divertiamo ovviamente vi chiedo ragazzi un grande grandissimo supporto su canale youtube di sports rivals che trovate banalmente scrivendo qua sulla chat punto esclativo social non solo il canale youtube ragazzi ma un po' tutti i nostri social se li seguite ci fate un super super grande grandissimo favore raga è importante ogni iscritto è importante raga ogni iscritto ma si ma si ma è ovvio raga ma c'è ma parese stavo scherzando nel senso arrivederci con lebron mica figo però così mischiato ci sta da rivederci 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 rischiato sei tarone è anche il leader sei tarone il leader che è un finger sei tarone o mi sta prendendo il diabete veramente perché cioè devo rivederci ma vabbè un bel put down è un bel put down per far si è un bel put down è un bel put down perché non è un bel put down Grazie a tutti. 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 Sono bella, sono bella, sono tosta. Leggero, è leggero questo accorto. Ah, peccato. E giustamente tutti potevano aspettarsi che rientrasse, sono sul piede però. Ah, vabbè, 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 lebron. Ormai, quelle le hanno proprio, più che dimenticato io, le hanno cestinate, capito? Le hanno proprio cestinate. Le hanno proprio cestinate perché non li fruttavo. Era una spesa in più tra server e quant'altro. Le hanno cose che erano state più che altre create dai fan alla fine fino. E' tipo anche per dire il 10 contro 10 era stato creato sul sistema, era stato creato dai fan. E' tantissima roba. E' tantissima roba. Eh, quello era bello. Era la mia modalità preferita in assoluto, te lo giuro. Eh, lo capisco, lo capisco, Dani, lo capisco. Lo capisco. Eh, lo so. Eh, lo so. No, noi per primo, noi come Foxwiz eravamo abbastanza organizzati. Ma anche la stessa esports rival, sei tempi, che questa, l'ho detto, cioè il Ludo nascerà dalle cene di una realtà che poi nel 10 contro 10, anche su PS, era tanto avanti. Tanto proprio. Il difensore centrale era il ruolo che, che secondo me era quello in cui, ma era apprezzato molto difensivamente da quel punto di vista. Perché poi, di base, i giocatori forti non volevano mai fare quel ruolo. Eh, quindi, io facevo spesso il DC. Se, se potessi. Solo che, cavandomela bene, in tanti altri ruoli, soprattutto all'atto da partista o da esterno, che era la seconda punta sull'atto. Il ruolo in cui ero più pericoloso, mentalmente, mi mettevano, mi mettevano il peso lì. Però, la difensore centrale, la difensore centrale, mi trovavo proprio bene. Anche perché, paralmente, comandavo io la difesa. Mi trovavo, addio, il ruolo che facevo anche quando giocavo a calcio, davvero. Poi, per tante, tante motivazioni, mi sono sempre trovato a fare più o meno tutti i ruoli. L'unico ruolo che io detestavo con tutto me stesso era la punta centrale. Che, banalmente, poi era, era... Eh, Dani, non ti saprei dire, sinceramente. Banalmente, era il ruolo che tutti volevano fare. Ah, mh... Non credo. Penso sia... Magari che con PES si poteva fare un ragionamento del genere, ma... Con i football, secondo me, farebbero una roba, un po' come hanno fatto con il... Con il discorso campionato. No. Che hanno messo una sorta di... Di pseudo stagione, così. E, probabilmente, anche se diventa un mito, farebbero una roba del genere. 10 contro 10, secondo me, loro non lo vogliano proprio per un discorso che appesantirebbe troppo... I server, perché... La regola è che tutto ciò che c'è su console... Debba, per forza, esserci anche su mobile. Il... Eh... 10 contro 10, così, appesantisce troppo. Troppo, troppo, troppo. Troppo, troppo, troppo. Allora... Mmm... Oddio... Cosa ho appena visto? Eh... L'attimo. Ho perso l'attimo, non sono riuscito neanche a rientrare. eh questa è una partita comunque per quanto è equilibrata può tranquillamente finire sopra i stati eh porca miseria era fuori dai pari stavo giocando tutta da un punto ovviamente ma è proprio questo speravo per la pausetta la pausetta per andare a fare grazie ciao allora veramente totalmente totalmente inspiegabile raga eh nel senso la motivazione c'è ma la motivazione che hanno loro è la nascosta quella vera che hanno loro è non è sbagliato comunque mamma metà messo in porta bello gran pezzo questo gran pezzo gran pezzo bravi raga bravi tutti e due che è l'uver che aveva provato il pezzettino mamma questo non è mai fallo questo non è questo non è mai fallo raga grazie a tutti oh che cool no che mazzo tra passing e delay in questa casa ci sta proprio bene è proprio un nome alla nostra squadra e una sentenza un nome e una sentenza alla nostra squadra male male raga è vero e stasso non ci è vero e stasso non ci perfetto cambia bella come piaccia a me l'azione ah questo è un bel intervento è un bel intervento una caccia all'uomo questa una caccia all'uomo bravi bravi però bellissima cioè raga bravi davvero un bello spettacolo questa questa mi è piaciuta questa mi è piaciuta molto questa mi è veramente piaciuta tanto tant'è che io vi ho ammirato e guardato sono rimasto tranquillissimamente a guardarvi molto molto bravi fatto proprio il minimo indispensabile bravi bravi e randomly bravi 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 raga davvero c'è tempo anche per un altra ragazzi eh c'è qualcun altro che vuole entrare che è rimasto fuori A me andava Liscissima Liscia Liscia come l'olio Liscia come l'olio Ciao Beppe Buonanotte caro Come spesso Facciamo l'ultimissima Come poche se ne è Attenzione perchè il primo che hai detto Era anche piuttosto agile Ecco sul secondo Effettivamente Boco da dire Due Però sempre meglio che in divisione Il peso c'è In parte No Gioco in sé per sé Non è anticipato dai No Però purtroppo sì c'è E siete presto Magari Quando Questa settimana Quando torneranno Gli eventi E' possibile Che la vedrete In campo Non lo so Eh io ve la voglio Io ve la voglio Io ve la voglio Forse Sperateci troppo Io lo so Però Tutto può essere Tutto è possibile E' stato O leader O leader A te Voi Bissi Raga Grazie. 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 Pronti. Raga. Buona partita. Questa... la facciamo... proprio... con l'asciugamano. Poi altro perchè mi serve un cuscino per dormire. Sarà tosta. Sarà e sveglio. Non so neanche chi era il leader ma... Neanche chi era il leader. Ma la mia. Non so neanche chi era il leader ma... Ah, s'èttà, s'èttà. 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 Ma non c'è l'è l'è l'està. Ma... Ah, lo mio. Vedrò l'altro. Ha fatto lento questo... Tocca Hansel qua, son. Kimmich mi ha addormentato, sembrava... Qua si poteva e cam Bauer. Ma romà... Ma... Ma... E niente, attrazione Probabilmente dovevano segnare Un pollo Esagera, esagera Si esagera, signori Si esagera Mamma che rischio Sta rischiando Sto partita Stantemente Sto partita 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 la zio ha raucio lì pronto mamma mia buona buona bella 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 raga bello focus bello concentrato peccato muaro peccato ho pensato troppo danni su quel passaggio nooo però la volta aveva un po' di spazio verso l'arma non ho preso un pallone ragazzi 0 0 solo difesa solo difesa riuscito a fare una eh 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 per qua eh 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 molto molto figa forse anche più dell'altra eh eh no 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 raga no portiere portiere devo prenderlo io lì abbiamo fatto al contrario a volte ha mancato della cosa di alternarsi col portiere peccato adesso l'equilibrio crolla un pochino ciao serpentone grazie di cuore per il re d'uzzo fallo fallo bella stava ciao david benvenuto benvenuto come è andata la live troppo esce sta palla peccato poteva essere buona poteva essere buona vai che bello è giocatore franni franni è sciotto no non c'è l'elastico massimino dai non ci credo ci credo che non ha l'elastico sto sicuro sono sto tocco interno e poi tiro al giro non l'ho preso è buona bravo 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 si è buona ha fatto i miglioramenti importanti si è buona bravo 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 qui abbiamo questo bello 4-1-1-3-2 esotico con l'iniesta cc lasciato fuori diciamo i più tosti 3 gullet messi fico fuori faggatoni buon settarone ci sta ci sta anzi a un 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 questo è un bel pezzo questo è bello bello un bel pezzettino sai che io non c'ero lì in mezzo ero lì tranquillo che guardavo dall'altra parte bello bello era un bel gol ha fatto un bel gol alla versione uscita punisce sempre due tre crocchette annullate adesso molla nel colpo nooo peccato bella senti grazie a tutti grazie a tutti no cosa sta vanno pure spurs giusto giusto meritato era un intervento assolutamente unuseful cols Michael è andato a vendere il cocco qua vabbè dirello cercare le farfalle è stato un crollo alla fine ci sta ci sta ci sta un bel game bello anche il gol bel gol no bello ragazzi noi siamo io non la faccio fare assolutamente uno ho capito perché chiedo scusa a me ero l'unico che non ha presente quindi quando vuoi comunque uno contro uno cioè giusto aperto lo facciamo dal vivo tanto ci vedremo presto ma fa che lo dice a me a me lo dice bravi bravi comunque bravi brava anche lui anche lui al vivo ce lo facciamo però almeno una seduta ma ve la faccio prima altrimenti dopo due partite devo portare al pronto soccorso va bene ragazzi ok dai vi lascio nelle mani ottie della vostra nerd signori grazie di cuore grazie a seitarone grazie a luver grazie a danni grazie a tutti i ragazzi che sono passati a francio al coach totem e fisio al coach totem non perchè totem ma totem eh se lo sai usare io l'ho detto tanto se tu ce l'hai lo dai in mano uno che lo sa usare è un al casual al casual player secondo me devi saperlo usare un po' se lo dai in mano a chi lo sa usare si insisto su quanto vuoi te di darlo in mano a uno che sa fare queste cose altrimenti marcisce marcisce in tribuna signori buonanotte tutti da gennazie a tutti a tutti e a tutti i i i i Grazie a tutti